Buongiorno, buongiorno alle 12 e in punto con Focus TG, un'altra fuga di gas, un'altra esplosione, successo ad Abano Terme, semidistrutta un'osteria, ci colleghiamo subito in diretta con Chiara Gaiani e il nostro operatore Federico Cibotto. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori, ci troviamo in via Previtali ad Abano, quella che vedete alle mie spalle è un'osteria, un'osteria romana dal tipico nome Caccio e Pepe. La chiamata ai Vigili del Focco è arrivata alle 8.54 di questa mattina, come potete vedere un'esplosione, una fuga di gas, un'esplosione di GPL ha causato la semidistruzione di questo locale, non tanto agli arredi interni, ma sono esplosi i vetri, è caduto anche un muretto. C'era una signora che stava per entrare all'interno del locale per effettuare le pulizie, è stata ovviamente travolta dall'onda d'urto, ma miracolosamente è quasi illesa, ha riportato solo una leggera contusione ad una spalla. L'osteria si trova al di sotto di un condominio, tre gli appartamenti che sono sopra appunto questa osteria, tutti sono stati immediatamente evacuati, alcuni erano vuoti in quel momento, 8.54 del mattino le persone erano già andate al lavoro, altri invece erano occupati, una signora ci ha raccontato, sono stata svegliata di soprassalto dal Gran Botto. Immediatamente sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno iniziato a fare tutte le verifiche, a mettere in sicurezza i locali, appunto come ti dicevi i residenti sono stati evacuati, la strada, questa via che è una strada di collegamento da Abano a Montegrotto è stata chiusa al traffico. Noi abbiamo sentito la testimonianza del titolare dell'osteria, Alessandro Peia, che in quel momento non era sul posto, ma è stato immediatamente avvisato, allora sentiamo il suo racconto. La relazione ce lo diranno, ma per adesso sì, sembra che c'è una furia che è stata all'interno non dall'esterno, come hanno scritto già su un giornale che i funghi hanno alimentato cose, i funghi non funzionano, non sono spenti, non hanno alimentato niente, il problema c'è da dentro. Lei era qui in quel momento? No, no, il locale era chiuso per riposo settimanale, non c'era nessuno dentro. Chi l'ha avvisata? La gente, la gente che stava qui al bar e che hanno sentito il botto. So che una signora stava per entrare e si è fatta un po' male. Ma no, non si è fatta male, grazie a Dio, non so come ha fatto a non farsi male, ha sentito l'esplosione all'orecchio e le cose varie, stava per entrare e quando è entrata si è sentito il botto, tutto lì. Però grazie a Dio non c'è niente perché non l'hanno portata via nemmeno l'ambulanza e quasi varie, grazie a Dio. Ascolti, lei ha già calcolato quanti danni potrà avere? Non lo so perché non mi hanno fatto entrare dentro, non mi fanno entrare, non lo so. Quello che vedo, vedo dall'esterno. Però dentro il locale dicono che è integro, solo la parte della cucina e della pizzeria, dove per me c'è stata la fuga del gas. Però è tutto diverto, non riesco a calcolarlo un danno del genere. Certo non ci voleva perché non hanno gli usi di Covid, più tutti i problemi con le bollette. Adesso fermano attività e ci stanno sette persone che lavorano, sette famiglie, non è una cosa bella. E questa non è nemmeno una cosa facilmente di metterla in piedi. Perché penso che non ho idea, ecco c'è l'assicurazione per vedere, non ho idea proprio, non ho idea. Sono solo sconvolto, quello sì perché tutto mi sarebbe mai immaginato ma una cosa del genere no, anche perché l'ho chiuso io, il locale, fughe non ce n'erano. Fughe non ce n'erano. E lì sera a mezzanotte abbiamo chiuso, buttato l'immondizio, ho fatto tutte le solide cose che facciamo e poi ecco, è successo quello che è successo. Avete sentito la testimonianza sconvolta del proprietario? Il collega Federico Cibotto vi fa vedere un'inquadratura che vi racconta ancora di più quali sono i danni che hanno colpito questa osteria. Avete sentito anche delle parole del proprietario. Ieri avevo chiuso tutto, noi abbiamo intervistato anche un funzionario dei Vigili del Fuoco che sono ovviamente in sopralluogo per capire che cosa abbia causato questa esplosione. Ci ha detto che è stata trovata una bombola di gas aperta. Sono quindi in corso indagini da parte dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri. Nel frattempo non sono ancora rientrati nel condominio gli occupanti ma i Vigili del Fuoco ci hanno detto che l'edificio non ha subito danni strutturali e quindi insomma si tratta di poche ore e tempo di finire le ultime verifiche. Ringrazio per la collaborazione tecnica il collega Federico Cibotto e da Abano Terme restituisco la linea allo studio. Grazie, grazie molte. Grazie alla nostra inviata Chiara Gaiani della nostra redazione di Padova. Adesso vediamo alcuni titoli con notizie di cui ci occuperemo, con altri collegamenti in diretta. Una storia davvero singolare. Una bambina ha colpito la maestra e l'ha mandata in ospedale. L'episodio è avvenuto in una scuola elementare del veneziano. Sentiremo più avanti i dettagli da Ilaria Marchiori. Qui siamo a Udine, perquisizione in corso per l'omicidio del senzatetto. C'è un sospettato. Il Veneto guadagna 20 giorni di sole. Le spiagge venete allungano la stagione. E poi mamma fa prostituire. Una brutta storia. La mamma che fa prostituire la figlia di 12 anni. Il papà chiede un maxi risarcimento. Oggi pomeriggio a Vicenza si celebreranno i funerali di Giorgia Trocciola. La studentessa vicentina travolta da un'auto negli Stati Uniti mentre stava raggiungendo il college in cui stava studiando. Vediamo il servizio di Carlo Alberto Inghilleri. È il giorno dell'ultimo addio a Giorgia Trocciola. Il funerale verrà celebrato alle 4 di oggi pomeriggio nella chiesa arcipretale di Cavazzale di Monticello Conteotto. La diciassettenne, morta mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali negli Stati Uniti, era molto conosciuta anche come atleta. Praticava softball, tennis e nuoto. In America da alcuni mesi, dove frequentava il quarto anno della Doherty High School, a giugno sarebbe tornata a casa in Italia. Purtroppo, però, è stata investita mercoledì scorso nella contea di El Paso, nel Colorado, mentre stava andando a scuola. A travolgerla, una jeep è passata con il rosso. Ieri si sono svolti i funerali di Matteo Cazzola, l'alpinista 35enne che è stato travolto da una valanga in Norvegia il 31 marzo scorso. Comozione da parte di tutta la comunità vicentina, in rappresentanza c'era il sindaco Francesco Rucco e per Matteo gli amici hanno voluto lasciare un simbolo, cioè una pianta di olivo con i loro pensieri avvolti tra i rami. Vediamo il servizio di Luisa Bertini. Chiesa gremita per l'ultimo saluto a Matteo Cazzola, l'ingegnere vicentino di 35 anni che ha perso la vita a seguito della valanga in Norvegia. Comunità unita nel dolore della famiglia e nella vicinanza, testimoniata dalle parole di Don Claudio Bassotto, ex parroco a Sant'Andrea, dove Matteo aveva svolto l'attività di animatore. Matteo era veramente speciale per tanti, tantissimi. Amato, amabile, amorevole. Matteo era semplicemente un ragazzo, anzi un uomo, naturale, sorridente, amante della vita e della montagna, pieno di belle passioni, bello dentro e fuori, sociore, positivo, genuino, vite, pacato, presente alla famiglia e ai macchi, altruisto, generoso, affidabile e tanto, tanto altro. Insomma, quando penso a una bella persona, penso a Matteo, perché era così. E così rimarrà per sempre nei nostri cuori. E' commoventi le parole degli animatori che hanno raccolto i loro pensieri e i loro ricordi in bigliettini, avvolti tra i ramoscelli di un ulivo. Hanno ricordato Matteo come una guida saggia e preziosa, luminoso come un faro, li conduceva a condividere le bellezze della natura come la tenerezza di un'alba in montagna. E' proprio la montagna che lui amava tanto ha portato via il suo sorriso che qui in quartiere ricordano tutti. Il pensiero è stato rivolto anche a Pietro De Bernardini, lo studente 25enne di Isola Vicentina, la seconda delle vittime travolte dalla valanga di cui si attende ancora il rientro della Salma in Italia. Ovviamente commozione e cordoglio da parte di tutte le persone che conoscevano Matteo Cazzola. In molti hanno voluto lasciare la loro testimonianza di vicinanza e di affetto. Io sono un ex collega e di lui ricordo tutto il pensiero che ho fatto durante il funerale che entrava in ufficio e mi diceva ciao Antonella, tutto bene? Direi che adesso no. Lui, spero. Lui era amabile, come hanno detto lì alla predica, era amabile, amorevole, era splendido, splendido. Si è portato via un angelo. Gentile con tutti, sempre sorridente, sempre allegro, veramente grande perdita. Il classico fulmine a Cessareno è vissuta proprio come una tragedia. Purtroppo non ho avuto modo di conoscerlo approfonditamente, però riporto anche io le testimonianze che ho sentito. Lei ha fatto da babysitter a Matteo? In che anni? Eh, proprio quando viveva quattro mesi, fino ai due anni, tre. Un paio d'anni. Era un bambino dolcissimo, è stata proprio la mia prima esperienza. Adesso io sono maestra e credo anche grazie a questa esperienza con lui che è stata magnifica. Di vicinanza alla mamma perché penso che sia una cosa veramente struggente, un dolore veramente incalcolabile. E un altro fatto di cronaca sconcertante a Vittorio Veneto, ci colleghiamo con Francesca Bozza, Terralinea Francesca. Buongiorno, buongiorno direttori, buongiorno telespettatori. Siamo a Vittorio Veneto, per l'esattezza in via Rindola Bassa. È una stradina, l'abbiamo fatta prima insieme a Nicoletta Rizzetto. Quel tratto che adesso Nicoletta sta inquadrando è l'unico tratto di rettilineo, dopodiché iniziano una serie di curve molto strette tra le abitazioni. Il che rende questa strada particolarmente pericolosa, oltre naturalmente alla presenza di pedoni, di bambini che entrano ed escono dalle case. Cosa succede? Succede che lunedì due auto, e sono sempre le stesse auto, ci dicono qui i residenti, auto di grossa cilindrata, sfrecciano per questa strada. Due residenti sono in giardino, invitano questi automobilisti a rallentare. Questi automobilisti cosa fanno? Proseguono, vanno in piazza, ci racconto residenti, prendono delle pietre, tornano indietro, e qui la situazione degenera. Inizia uno scambio di parole, molto acceso con questi due residenti, dopodiché passano le mani. Questi due automobilisti colpiscono uno, un giovane, con un pugno, e poi iniziano a lanciare questi sassi. Padre e figlio rimangono feriti, devono ricorrere alle cure dell'ospedale, e questa situazione, questo episodio, chiaramente preoccupa i cittadini, che ci dicono che negli ultimi mesi la situazione qui è davvero degenerata. Insieme a me la signora Maria Cristina, la signora Vita, la signora Vita qui con il suo cane, dice che io addirittura sono costretta a cambiare strada perché ho paura. Sì, 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 ho paura, perché non si può, non si può. Troppa velocità, vanno a tutto gas, non si rendono conto, perché se ci sono animali, bambini, biciclette, vanno loro sparati. Signora, sarebbe un quartiere tranquillo qui tra le colline, eppure la situazione sta diventando davvero pesante, quasi invivibile. No, ma oltre che la velocità, anche di notte, disturbo, non la quiete, cioè, uscite da sera col buio, c'è da aver paura, perché non sai mai come la possono prendere, come ti possono, non lo sappiamo neanche noi, anche perché di giorno mi hanno paura, perché ci sono bambini, come io, come mia nipote, io vedi passassù a 150, 150 all'ora, cioè, non è possibile andare avanti in questa storia. No, adesso abbiamo più paura, perché se i risultati sono questi, se noi diciamo qualcosa, questi vengono al ritorno indietro, cioè, non è possibile, non è possibile. Diceva poi, si sentono anche litigare, la sera litigano, tutto tra loro, fanno, con le macchine, fanno la gara qua, nel rettilineo. Qui dove c'è il rettilineo? Siamo tra l'altro, qui c'è il traforo di Santa Augusta, è una zona di... Un rally, un rally per loro, perché si sentono le frenate, a luna di notte, ancora loro che girano, cioè, eh, ma poi, come l'altro giorno, io e mia figlia, che mi sono andata a mangiare le capre, cioè, tu gli dici, per piacere, sposta il tuo cane, perché possono minacciare le nostre capre, loro arrivano, ti insultano, cercano di metterti le mani addosso, cioè, non è possibile andare a mangiare questa situazione. Vi la sentite di lanciare un appello, ci diceva un vostro vicino, ci sarebbe bisogno di più controlli, però ci dicono che, e sappiamo che le forze dell'ordine fanno quello che possono, con le forze a disposizione. Al comune un messaggio, un appello, magari più vigilanza? Speriamo che siano in possibilità di avere un po' più organico, e fare un po' il giro, per stare un po' più tranquilli, se loro ancora continuano, qua non arriveremo all'altro, non solo a fare appello al comune. Cosa potreste fare? Non lo so, una riunione, qualcosa da di fare. I vicinati? I vicinati, fare come fanno a certi posti, fare aria vicinata, sorvegliata, com'è che si dice? Non è più possibile andare avanti, andare avanti così. Ha sentito direttore la situazione, ed è lo stato d'animo che si respira qui in questa via, ci dicevano che qui era tranquillo fino a poco tempo fa, poi negli ultimi mesi, e l'ultimo episodio di lunedì sicuramente ha esasperato gli animi, degli esidenti, lo avete sentito pronti eventualmente ad organizzarsi con il controllo di vicinato, e sorvegliare loro stessi il quartiere. Grazie, grazie molto Francesca, grazie, buon lavoro, torniamo alla cronaca, ci sono gli energumeni, i violenti per le strade, poi ci sono anche i predoni, e questa volta sono stati acciuffati. Vediamo come si è conclusa l'operazione della polizia, della PS, vediamo nel servizio di Nicola Zanetti. A tradire uno dei due predoni è stato il DNA ricavato dalle tracce biologiche sul paraorecchia, abbandonato insieme a un cappello dopo l'ultimo colpo, una rapina a Monza. Un elemento che ha consentito la squadra mobile di arrestare due georgiani di 37-38 anni senza fissa dimora, che in un anno hanno messo a segno una ventina di razzie e colpi tra Veneto e Lombardia per un bottino di oltre 100.000 euro. Erano specializzati in furti in appartamento, ma quando il 9 marzo, sorpresi da un inquilino a Monza, lo hanno aggredito per darsi alla fuga, si sono trasformati in veri e propri rapinatori. In Veneto una lunga sequenza di obiettivi a partire dal gennaio 2022. Due colpi a Mogliano Veneto in sette giorni, due a Scorzè pochi giorni dopo. A febbraio 2022 si erano spostati a Mirano, quattro colpi, poi Tiene a Vicenza tre razzie, tre furti anche a Bassano del Grappa, uno a Padova. Poi in Lombardia colpite Gallarate, Crema e Monza, con il colpo risultato fatale per la loro attività criminale. Nel corposo bottino quasi sempre denaro e gioielli. Attraverso il DNA le testimonianze, nonché l'analisi di alcune chat in lingua georgiana, la polizia li ha rintracciati ed arrestati. Una terza persona, una connazionale, è stata denunciata. A Vicenza è stato identificato e acciuffato un pluri pregiudicato straniero che rompeva i finestrini delle auto, è stato arrestato e rimpatriato dal questore. Con questa tecnica, ricorderete, sono stati sottratti dei soldi che erano destinati all'Associazione per la lotta alla leucemia proprio l'altro giorno. Vediamo il servizio di Daniele Garvin. Un pluri pregiudicato di 44 anni di origine tunisine è stato accompagnato dalla Polizia di Stato al centro di permanenza di Brindisi per essere immediatamente rimpatriato al suo paese d'origine. Il drastico provvedimento deciso dal questore Paolo Sartori giunge al termine di una serie di episodi criminali che hanno visto protagonista l'uomo irregolare in Italia. aveva collezionato denunce per furto, rapina, spaccio, resistenza pubblico ufficiale, porto d'armi, indebito, utilizzo e falsificazione di carte di credito. Nei suoi confronti era già stato emesso un ordine di allontanamento dall'Italia che l'uomo però non aveva ottemperato. Il provvedimento era emerso a seguito dell'ennesimo controllo dagli agenti che con estrema difficoltà lo avevano accompagnato in questura. Le volanti erano a corse in via Sarpi e via Leopardi a seguito di numerose telefonate dai cittadini che denunciavano di aver ritrovato le proprie vetture con i vetri infranti. Sul posto l'uomo era stato subito individuato dagli agenti come l'autore delle spaccate dove tra l'altro si era procurato lievi ferite ma ne aveva rifiutato le cure. Abbiamo dato tante volte i particolari episodi di violenza nelle scuole all'insegnante di Rovigo che è stata colpita da un proiettile di gomma atti di bullismo insomma ne abbiamo raccontate di tutti i colori. Questa volta però è davvero inedita la storia di una bambina che avrebbe colpito che ha colpito adesso sentiremo i dettagli la sua maestra che è finita in ospedale ci racconta tutto Ilaria Marchiori te la linea Ilaria Sì buongiorno direttore buongiorno ai nostri telespettatori è un episodio avvenuto in una scuola elementare del Veneziano in cui questa bambina avrebbe lanciato qualcosa contro la sua maestra colpendola al ginocchio facendole perdere l'equilibrio di cui la caduta e la corsa al pronto soccorso perché il ginocchio era parecchio dolorante ora l'insegnante è a casa in infortunio con una prognosi di alcuni giorni si dovrà anche capire se ha subito dei danni ai legamenti questo però questo episodio però non sorprende molto soprattutto i genitori degli altri bambini di questa classe che da parecchio tempo avevano già segnalato la problematica che i loro figli si trovavano a dover fronteggiare in classe a causa dei comportamenti spesso aggressivi sia verbali che fisici di questa bambina addirittura c'è stata una giornata in cui metà dei dei genitori hanno deciso di tenere a casa i loro figli sia per dargli un po' di respiro perché questa cosa sostengono sia molto stressante anche a livello psicologico per i loro bambini sia un po' in segno di protesta dal canto suo la dirigente scolastica ha fatto sapere che aveva messo in campo tutte le azioni necessarie però ci si è trovati comunque a dover raffronteggiare anche questo episodio ecco qui si aprono vari fronti di discussione soprattutto dal punto di vista della carenza di personale in questo caso probabilmente anche di un eventuale insegnante di sostegno che ancora non si sa se fosse all'interno della classe o se non ci fosse però non è la prima volta che ci si trova a dover fronteggiare carenze di questo genere soprattutto all'interno dell'ambito scolastico anche perché stiamo parlando di una scuola di una classe elementare quindi di una bambina anche abbastanza piccola e che quindi viste queste problematiche andrebbe seguita passo dopo passo naturalmente si stanno effettuando tutte le verifiche del caso tra l'altro alcune notizie di cui siamo venuti a conoscenza proprio in queste ore è che per esempio in classe erano state tolte tutte le forbici proprio perché c'era paura che questa bimba potesse eventualmente prenderle ed utilizzarle in maniera impropria dunque ecco qui si potrebbero aprire vari fronti anche probabilmente oltre a una questione proprio pratica che riguarda il personale all'interno delle scuole anche psicologica perché come sappiamo anche molti bambini non solo gli adolescenti ma anche molti bambini sono stati in qualche modo segnati da quello che ha provocato la pandemia e quindi per molti casi bisognerebbe anche pensare di seguirli in maniera un po' più approfondita naturalmente anche noi continueremo a seguire questa vicenda per capire se ci sono ulteriori dettagli se verranno presi degli ulteriori provvedimenti in questa scuola ovviamente è opportuno mantenere l'anonimato soprattutto per tutelare i minori all'interno di questa classe e la bambina stessa ecco qui da Marghera è tutto io restituisco la linea allo studio Grazie 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 E un'aggiornamento sull'aggressione da parte di un ragazzo autistico in un centro disabili di Zero Branco ad una psicologa che è ricoverata in condizioni ancora gravi in ospedale Un atto dovuto la procura di Treviso ha aperto un fascicolo L'ipotesi di reato per cui si indaga è quella di lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma. I fatti sono avvenuti al centro Terra Libera Tutti di Zerobranco. Un giovane 28enne che soffre di autismo mentre stava svolgendo un'attività in cucina, quella di tagliare le patate, forse per un richiamo, forse per un rumore troppo forte, si sarebbe girato ed avrebbe colpito la psicologa che si trovava vicino a lui. La donna è stata subito soccorsa ed è stata portata in ospedale con una prognosi di una quarantina di giorni. Secondo i sanitari la 32enne veneziana resta in prognosi precauzionalmente riservata ma in un ambiente non intensivo. Intanto il presidente e coordinatore dell'associazione Andrea Gambardella tiene a precisare che le attività programmate sono già riprese senza la necessità di alcuna precauzione aggiuntiva poiché dopo le opportune verifiche l'operato dei professionisti è risultato ineccepibile sia dal punto di vista tecnico che umano. Il fatto verificatosi ha terminato Gambardella non era dunque prevedibile in alcun modo. Nei prossimi giorni intanto è previsto un incontro anche con l'Ulss2. La riunione la definiremo qua a breve e servirà proprio per cercare di capire come si può aiutare questa struttura ma soprattutto le altre strutture perché stiamo parlando di una realtà di eccellenza che forse è un passetto più avanti rispetto a tutti gli altri. Tra l'altro siamo in un'ottica di PNRR dove questo tipo di attività verranno incentivate e verranno sviluppate. Una struttura questa che dà supporto non solo ai ragazzi per aiutarli a diventare il più possibile autonomi ma è anche un supporto fondamentale per le famiglie. Assolutamente sì, qua ci sono ragazzi che purtroppo non hanno più famiglia oppure ragazzi che vivono in famiglia ma all'interno delle famiglie c'è un pensiero unico e costante che è quello che tecnicamente viene definito il dopo di noi, cioè quello che succederà a questi ragazzi nel momento in cui la rete familiare non ci sarà più. E quindi queste esperienze di co-housing servono proprio per dare loro quel minimo di autonomia che aiuti le famiglie da una parte a trovare un po' di serenità in più e a loro però di affrancarci rispetto a un domani che non è così semplice così come può essere per altre persone. Servizio di Daniela Sizia, ne abbiamo parlato ieri sera a Focus con Mirko Casteller, psicologo, psicoterapeuta, gli altri e gli altri ospiti. Questa situazione è difficile all'interno di queste strutture protette. E infuria la polemica anche in Veneto dopo le dichiarazioni del Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigia che ha parlato di sostituzione etnica, parlando di migranti, in sostanza ha detto che se si va avanti con tutti questi arrivi, tutti questi sbarchi, alla fine gli italiani saranno sostituiti da coloro che arrivano da altri paesi. Sentiamo le parole di Lollobrigia rilasciate appunto ieri. Non è che si incentivano convincendo le persone a passare più tempo a casa come qualcuno ha sostenuto perché così si intensificano i rapporti. Non è quello il modo. Il modo è costruire un welfare che permetta di lavorare ed avere una famiglia. Il modo è sostenere le giovani coppie per trovare occupazione. Il modo è mettere in condizione tutti di leggere un dato che vede la crescita demografica viaggiare in parallelo su una migliore assistenza anche all'interno del nostro territorio nazionale. Le regioni dove c'è meno welfare vedono il calo demografico molto più importante rispetto alle altre. Non possiamo arrenderci all'idea della sostituzione etnica. L'idea della sostituzione etnica. Vabbè, gli italiani fanno meno figli, li sostituiamo con qualcun altro. Non è quella la strada. Io ritengo e tocco questo tema l'immigrazione un fatto naturale, fisiologico. Sono nipote di un emigrante e mi guardo bene dal pensare che l'immigrazione e quindi l'immigrazione siano un problema. Anzi, diventano un'opportunità di crescita per una nazione. Se ci sono richieste di forza lavoro, quando hai esaurito la domanda interna, ti devi dotare di forza lavoro anche che venga da altre nazioni. Però bisogna chiarire che il primo nemico dell'immigrazione regolare, fatta attraverso flussi organizzati, si chiama immigrazione illegale e clandestina. Ed è una strada che è stata finora percorsa e che noi stiamo provando a cambiare. Allora, così ha detto il ministro Lollobrigida. Sentiamo come ha commentato questa vicenda Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, è stato ospite di Focus qualche giorno fa. Sentiamo. La ennesima fesseria di Lollobrigida, che è un professionista in materia, e si parlerà meno delle porcate che stanno facendo. Adesso non si sa bene chi sia questa spettere nazista che ha addirittura un progetto per sostituire noi bianchi e cristiani con i neri islamici. Io vorrei sapere chi è, di che cosa sta parlando. Questo dovrebbe occuparsi di agricoltura. È lo stesso che ha detto che quelli che prendono il reddito di cittadinanza perché non trovano lavoro dovrebbero andare a lavorare nei campi. Ma hanno sempre l'alternativa di sposare la sorella del premier e fare il ministro dell'agricoltura. Penso che chiunque lo farebbe meglio. Giorgia Meloni ha detto che il problema dell'occupazione delle pensioni non si risolve con i migranti ma incentivando lavoro femminile e natalità. Mi cascano le braccia. I nostri imprenditori hanno bisogno di gente che va a raccogliere i pomodori per 20 ore a 2 euro all'ora. La Meloni vuole mandarci le sue parenti femmine, ci dobbiamo mandare le nostre figlie, le nostre mogli a fare quei lavori lì. Di che sta parlando? Io mi meraviglio, no, non mi meraviglio perché lo sapevo, della totale ignoranza di queste persone quando parlano di queste cose. Marco Travaglio, a proposito, vediamo una vicenda che riguarda 12 cittadini stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana. Cerimonia ieri mattina nella sala consigliare di Palazzo Rosso a Belluno. Vediamo. Moldavia, Albania, Camerun, Croazia, Kosovo, Ecuador, Marocco e Ucraina sono i paesi d'origine dei 12 cittadini che questa mattina alle 11 hanno ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana. Sala consigliare di Palazzo Rosso gremita di parenti e amici per l'evento vissuto con particolare emozione anche dall'assessora Roberta Olivotto che ha ufficiato la cerimonia con la fascia tricolore nel ruolo di ufficiale di Stato civile. La comparente presta il giuramento pronunciando le parole. Giuro di essere fedele della Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato. È un rito che si ripete pressoché ogni mese a Palazzo Rosso e in gran parte dei municipi della provincia di Belluno per ottenere la cittadinanza italiana e i cittadini extracomunitati devono essere residenti in Italia da almeno 10 anni, 4 per i cittadini dell'Unione Europea. Alla domanda di cittadinanza i cittadini devono dimostrare di avere la certificazione della conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 e un reddito personale o familiare fra gli 8 e gli 11 mila euro. Il Presidente Sergio Mattarella è ancora in Polonia, oggi a Cracovia, ha detto che l'Unione Europea non è somma di motevoli interessi nazionali e rilancia una difesa comune. L'Europa non insegua un'agenda decisa da altri. Per quanto riguarda i migranti, durissimo è stato ieri il Capo dello Stato, parlando del Trattato di Dublino, ha detto che siamo di fronte a delle leggi preistoriche. Rivediamo un Vox realizzato dalla nostra redazione di Bassano del Grappa proprio su quanto sta accadendo sul fronte dei migranti con il governo che ha proclamato lo Stato di emergenza che vuole togliere la cosiddetta protezione speciale. Parlano di togliere la protezione speciale per chi arriva in Italia e chiede il permesso di soggiorno, lei che cosa ne pensa? È giusto irrigidire i protocolli? Da una parte questa parte umana ci starebbe, però tutte queste persone che vengono e che non hanno un'assistenza adeguata, è un po' un problema grosso, dico la verità. È troppa roba, c'è troppa roba lì che non va bene, perché i migranti bisogna dargli una regolamentazione, ma non sulle persone, bisogna fare una regolamentazione a monte con gli stati, con i governi, quindi quello che stanno facendo in Africa va bene. Le cose che accadono qui sono solo politica interna di bassa lega. Cercare di regolarizzare un po' di più, penso proprio di sì, credo che faccia bene, adesso io non so benissimo come sono queste regole che stanno imponendo, però credo che forse un po' di legislazione in questo senso sia necessaria. No, sono assolutamente contraria. Apporre quel tipo di limiti c'è ben altro da fare sulla faccenda dei migranti. Secondo lei che cosa? Intanto assolutamente trovare un modo con l'Europa di fare qualcosa insieme, di destinarli, perché sembra che il terrore sia l'invasione di questa gente che arriva, ma di certo non è così. Ma l'Europa secondo lei non le sembra che ogni tanto faccia le chiede a mercante su questo tema? Purtroppo sì. Io penso proprio di sì, perché dopo vent'anni libero accesso a tutti non si può fare, ci vuole un regolamento che l'Europa non ci è mai venuta incontro a stabilire certe cose che si può fare. Se lo possiamo permettere va bene anche i migranti, se non ce lo possiamo permettere inutile di gare di vino. Ok? Ci sono anche gli italiani che hanno bisogno. E parliamo del PNRR, sentiremo i cittadini su questo, su quello che hanno capito di questo piano nazionale di ripresa e resilienza, come funziona, che cosa comporta, se siamo in ritardo. Intanto vediamo cosa è successo ieri in aula con il ministro Fitto che si è dovuto difendere proprio sul PNRR dall'attacco delle opposizioni. Sentiamo. Dobbiamo concentrarci su questo tentativo di costruzione di una polemica che io ho riscontrato in molti interventi come se ci fossero, l'avete ripetuto in più circostanze, dei ritardi, senza indicarne uno solo imputabile a questo governo, che in cinque mesi e mezzo sarebbero stati raggiunti dopo che per oltre due anni tutto questo è stato un dettaglio per questo Parlamento evidentemente. E allora dobbiamo essere corretti nell'impostazione e dobbiamo partire dal dato che se nella politica di coesione sono state spese solamente il 34% delle risorse e la relazione, io non ho interrotto nessuno e quindi con grande Presidente, gentilmente, sono stato qui tre ore ad ascoltare. Ministro, però qui diciamo l'ordine non mantiene la Presidenza, i colleghi far parlare il Ministro, prego i colleghi di far parlare il Ministro e se ci sono problemi fa benissimo rivolgersi a me, prosegua, collega Mancini la prego di far proseguire il Ministro, prego Ministro. Ed è evidente che all'interno della politica di coesione emergono in modo molto chiaro non dei dati che sono del governo. Insomma questa è stata la difesa del Ministro Fitto, è una situazione complicata perché ci sono proposte di rinunciare a dei fondi che sono a prestito e sono debiti che dovremo poi saldare. Siamo andati a sentire i cittadini ancora una volta a Bassano del Grappa per capire se hanno capito. Vediamo. Vediamo. Comunque un'opportunità che bisogna sfruttare fino in fondo perché potrebbe cambiare veramente l'Italia per i prossimi vent'anni, dalla sanità, ai trasporti, alle grandi opere, alle strave, eccetera. Penso che forse con questo governo riusciamo. È un'opportunità per l'Italia qui. Sì, è un'opportunità mai avuta. Se riusciamo a spendere questi soldi l'Italia diventa una delle prime nazioni al mondo. Come bisogna spenderli secondo lei? Beh, infrastruttura, no? Principalmente. Quello che dovrebbero fare è vedere di migliorare i paesi cercando di fare l'utile per le persone e per la natura, come si dice, per l'ambiente, ecco. Quindi sia i fondi ma attenzione a come li usiamo. Esatto, soprattutto quello devono guardare, visto che adesso poi se ne parla molto questo green. Sono molto, molto poco ottimista, ecco, perché io non ho molti anni, però si andava meglio quando si andava peggio. Per aiutare le persone che stanno veramente male? Beh, sicuramente bisognerebbe usarli intanto in maniera corretta. Poi dirti come, sinceramente non lo so. So soltanto che qualcosa bisogna fare per aiutare l'Italia, perché siamo in deficit, ma siamo anche un popolo che ha sempre una rinascita, quindi penso sia corretto usarli. Non so che si indebita, però è meglio così, insomma, poter fare qualcosa, insomma. Dare una spinta all'economia qui. Esatto, esatto, esatto. Sia allo sviluppo. Cosa ne pensa, signora? Che vada bene per tutti e non per qualcuno e barta. Un'Italia come la nostra credo che ha necessità di utilizzare fondi del PNRR, anche perché a parte che veniamo da una pandemia che ci ha distrutto, quindi è ovvio che è una mano d'aiuto e ci vuole, indipendentemente da quello che potrà essere l'indebitamento ulteriore, già che già ne abbiamo tanto, però voglio dire sommandolo a quello se risolva dei problemi perché no. Allora, passiamo alla vicenda dell'orsa JJ4, è stata catturata, è l'orsa che ha ucciso il runner Andrea Pappi, il presidente della provincia di Trento ne chiede l'abbattimento, il TAR risponde che non vuole decidere su un abbattimento anticipato e intanto anche l'animale è nato da due esemplari provenienti dalla Slovenia e trapiantati nella regione italiana, è stata catturata con i suoi cuccioli l'orsa e ha ucciso Papi probabilmente per difendere i piccoli. Sentiamo il parere dello zoologo del Museo di Storia Naturale di Trieste, Nicola Bressi, nell'intervista che ha rilasciato a Ring a Trieste. Non sono orsi né colpevoli né orsi che fanno gli orsi, sono orsi più aggressivi degli altri perché è il loro carattere. Ma cosa si fa? Li si cattura, li si fa vivere in cattività, li si uccide? Abbiamo tre scelte, la sdobbia è una scelta molto pragmatica, li uccidono e con i soldi che ne ricavano dalla venita di carne e pelle vanno tra l'altro a rifondare i danni causati da altri orsi, quindi è un po' la popolazione degli orsi che si automantiene, quindi va proprio in un fondo che serve anche a tutelare gli orsi, tanto è vero che la popolazione di orsi slovene in continua crescita, la specie tutelata, la specie non l'individuo, sono due cose ben diverse in ecologia, la specie orso tutelata non l'individuo e la popolazione è contenta di avere l'orso che è una risorsa anche turistica dal loro punto di vista, quindi la popolazione è contenta. Quindi si può, volendo fare il modo sloveno, si può farlo nel modo che sto fatto spesso in Italia, il lavoro di rinchiuderli, cosa qualcuno vuole, a molti sembra più umano rinchiuderli, ma gli orsi non sono umani, io lo dico da zoologo, un orso come tu i animali selvatici ha uno solo scopo nella vita, fare l'orso in questo senso vero della parola, cioè procreare, avere un territorio, avere dei cuccioli eccetera. Si dice essere come un orso in gabbia, uno che va fuori di testa, proprio si dice essere come un orso in gabbia, secondo me per il benessere dell'animale è molto meglio ucciderlo, in modo indolore chiaramente, con un'eutanasia, quello che si vuole, che condannarlo a un ergastolo. Teniamo presente che gli orsi chiusi in gabbia strette sono quasi sempre pieni di psicofarmaci, sono quasi sempre castrati e una vita terribile, un orso può vivere 30-40 anni anche in cattività, quindi è un ergastolo terribile che io non convivido assolutamente, se la scelta deve essere tra uccidere e l'ergastolo, io preferirei, lo dico da zoologo, per il bene dell'animale e l'uccisione. Ma è possibile che non ci siano riserve naturali, parchi controllati, abbiamo centinaia, decine di migliaia di forestali, in Sicilia c'è un numero spropositato, ma andiamolo in un posto in cui non possa fare danni, in cui sia controllato, senza uccidere gli animali meravigliosi che purtroppo uccidono, hanno ucciso un uomo e lo stato d'animo ai genitori lo possiamo comprendere, ovviamente perché è un fatto che non doveva accadere, ma l'orso fa l'orso, come diceva prima lo zoologo e sarebbe davvero, secondo me è sbagliato eliminarlo, comunque vediamo la cattura dell'orso in attesa che poi il Tar decida se per l'abbattimento o meno, vediamo. La fuga è finita, JJ4, l'orsa che il 5 aprile scorso ha aggredito e ucciso il runner Andrea Papi è stata catturata ieri sera intorno alle 23 nei pressi di un torrente in Val Meledrio, da giorni gli uomini del corpo forestale erano sulle sue tracce, fino a quando, attirata con della frutta, l'orsa è finita nella trappola tubo. È stato un lavoro selettivo, anche complicato, come avete potuto vedere da qualche anticipazione dalla presenza dei tre cuccioli in fase di svezzamento, come sapete i cuccioli in questo periodo si allontano dalla madre, sono cuccioli che sono al secondo anno di vita. Una notizia, quella della cattura che avremmo voluto dare nel 2020, quando abbiamo fatto le prime ordinanze per abbattere JJ4, ha detto il presidente della provincia autonoma Maurizio Fugatti. Soddisfazione dunque, ma anche amarezza, ha aggiunto, per quanto accaduto nel frattempo. Per parte nostra procederemo, se il Tar concederà ovviamente questo rispetto all'ordinanza che avevo sottoscritto, procederemo all'abbattimento di JJ4. L'orsa sedata è stata trasportata e rinchiusa in una gabbia del centro Casteller, dove già si trova l'orso M49. Della cattura Fugatti ha subito informato il ministro dell'Ambiente e i sindaci della Val di Sole. Adesso, ho poi ricordato, per prevenire altre tragedie, proveremo a catturare MJ5 e M62, altri animali aggressivi che vagano insieme a un centinaio di plantigradi per le Vali Trentine. E chiederemo a Nistra l'abbattimento. Questo era un servizio del TG Com24, del nostro collega Alessandro Ongarato, che segue le news di Mediaset da Venezia. Ferdinando Garavello, dalla nostra redazione di Bassano e Grappa, ci racconta quali sono le reazioni sull'altopiano. L'altopiano di Asiago, ovviamente, è già colpito duramente dai lupi. Sentiamo cosa ne pensano i cittadini. Il nostro personale forestale, il nostro corpo forestale, è riuscito a catturare JJ4. L'annuncio lo dà il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. L'orsa JJ4, che qualche giorno ha ucciso nei boschi della Val di Sole il runner Andrea Papi, è stata catturata e il presidente della provincia fuga ogni dubbio. Il Trentino vuole abbattere l'orsa e aspetta solo l'ok del Tar. Procederemo, se il Tar concederà, ovviamente, questo rispetto all'ordinanza che avevo sottoscritto, procederemo all'abbattimento di JJ4. Risolta questa crisi, il Trentino vuole sfoltire il numero degli orsi presenti sul territorio e a conti fatti potrebbero essere, fra 20 e 30, quelli considerati in più. Dove finiranno è tutto da vedere. Ancora più importante è il tema del futuro del progetto e quindi del fatto che i numeri devono tornare a quella che era la loro originalità, cioè quello che era l'origine del progetto che, voi ricordate, prevedeva una cinquantina di esemplari che si sarebbero dispersi sull'arco alpino. Più di qualcuno ha suggerito che il Veneto potrebbe accogliere questi esemplari in surplus e alcuni ricordano come l'area più vicina al Trentino sia quella dell'altopiano dei sette comuni, dove qualche orso di passaggio si è visto nel corso degli anni. Ma il territorio ha già detto la sua. Assolutamente non vogliamo neanche dirlo e neanche pensarlo. Guai, guai. L'orso in altopiano non ci deve essere perché, ripeto, rispetto al Trentino siamo ancora più fortemente antropizzati. Con una concentrazione di maghe, quindi di bovini all'alpeggio, assolutamente no. I sindaci dell'altopiano sono comunque preoccupati per quel che è accaduto in Trentino e per quel che potrebbe succedere ancora. Io spero solo e me lo auguro che questa cattura non sia un semplice e mero spostamento del problema da una zona all'altra, perché questo vorrà dire che non abbiamo ancora capito nulla per l'ennesima volta. Quindi se aspettiamo ancora un morto, io ovviamente non ci sto. Qualcuno però dovrà assumersi le responsabilità. Una situazione che per la politica e per i cittadini conferma ancora una volta la necessità di un intervento sul tema dei grandi carnivori. Servizio di Ferdinando Garavello, avete visto il sindaco di Gallio Emanuele Munari che è spesso ospite di Focus. Sull'orso si era espresso anche il presidente Zaia dicendo rispetto alla proposta del Trentino di mandarne in Veneto anche no, ha detto il governatore. Sentiamo cosa dice invece il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Nicola Finco. L'orsa che ha ucciso Andrea Papi in Val di Sole è stata catturata e ora il Trentino aspetta solo l'ok del Tar per l'abbattimento. Comunque vada a finire, non sarà la soppressione dell'animale o la sua detenzione fino alla morte in una struttura a cambiare una situazione che è molto complicata. Nella provincia autonoma ci sono infatti, secondo alcune stime, addirittura 100 orsi e sono decine quelli in surplus. Un quadro che per molti va a braccetto con quello dei lupi in alto piano. Sono dei progetti che sono completamente sfuggiti di mano e non sono stati controllati. Oggi ci troviamo con due specie che non sono più in via di estinzione perché si parla di oltre 100 orsi in Trentino per non parlare di tutti i lupi che abbiamo nel nostro territorio regionale. Fra meno di due mesi ripartirà la stagione dell'Alpeggio e le malghe dell'Alto Piano dovranno affrontare problemi molto importanti come la siccità e l'aumento dei costi. Per non parlare delle predazioni causate dai grandi carnivori. Noi oggi paghiamo le politiche foglie animali ambientaliste. Spesso e volentieri la politica è ostaggio delle politiche animaliste. Ma noi dobbiamo anche essere consapevoli che in montagna da secoli abitano dei cittadini che hanno sempre mantenuto la montagna in ordine, pulita, con un equilibrio anche da un punto di vista ambientale. E quindi ogni tanto forse chi ci governa a livello europeo piuttosto che a livello romano dovrebbe ascoltare la gente di montagna che ha sempre gestito sia la presenza degli animali selvatici che dei grandi carnivori. In ogni caso il Veneto ribadisce un secco no al trasferimento dei selvatici dal Trentino. La montagna veneta è vicinissima al Trentino. Ma diciamo che il caso Trentino è particolare perché sono oltre 100 orsi che in questi anni non si sono mai mossi dal territorio Trentino. Però noi ovviamente il Veneto piuttosto che la Lombardia sono due territori che confinano con questa regione e la preoccupazione c'è perché non vorremmo poi trovarci tra qualche mese qualche esemplare di orso scorazzare sui pascoli dell'Alto Piano piuttosto che in altre aree. Quindi ovviamente da parte nostra, da parte della regione Veneto c'è un no totale sul trasferimento degli orsi sul nostro territorio visto che problemi legati ovviamente ai lupi ne abbiamo già abbastanza. Italo Morao oggi in regia con Alberto Pivetta. Potevamo non sentire i cittadini su una vicenda così mediaticamente anche interessante e importante. L'ha fatto Chiara Gagliani e Bassano del Grappa. Sentiamo. Secondo lei l'orso del Trentino va abbattuta? No. Perché questa cosa? Sono un animalista e... Secondo me sì. Qui si è contro, mi è portata anche la sua l'orso non è anche nel giardino da Iuri. O no? Qui vuoi mantenere? Secondo me? Secondo me no, perché comunque va bene che... cioè il territorio è di tutti. Bisogna comunque limitare la quantità ma forse spostandoli mi sembra una cosa un po' barbara quella di abbatterli. Per conto mio sì, perché se andiamo avanti da 50 sono arrivati a 100, da 100 arriveranno a 150. Non è che io voglia abbattere gli animali tutti in serie ma siccome che questo ha già dei precedenti questo si sa che quando sente l'odore di sangue di una persona farà queste brutte cose. Io penso di no, anche se capisco il dolore causato per la morte di quel ragazzo. Devono trovare delle soluzioni alternative e devono avere la volontà di farlo. Troppi orsi non vanno bene. Però far pagare il conto a un orso che difende i piccoli, no. Non mi sembra giusto. E al di là che dicevano ma chissà che ragazzo cosa avrà fatto a quell'orso cosa volete che li abbia fatto. Pensare che uno si rivendichi perché l'orso non gli fa niente se lui va per la sua strada io lo lascio andare. Siccome che in montagna ci vado io direi va abbattuto se fa danni ma danni sia all'agricoltura e poi in caso di morte è ovvio che... Penso che va bene così. È giusto abbatterla quindi? Sì, secondo me sì. Ha ucciso un uomo. Hanno voluto gestire il problema sono tanto bravi a gestirlo se lo gestiscono e seminare gli orsi in giro per altre regioni. Se ne parla davvero dappertutto dell'orsa JJ4 ci sono poi lupi dicevamo sull'altopiano ma adesso salta fuori che arriverà anche in Valle del Chiampo nel Vicentino. Sentiamo. Abbiamo avuto delle segnalazioni da parte dei cittadini per quanto riguarda la presenza del lupo soprattutto in orario notturno. Il lupo torna a farsi vedere in Valle del Chiampo non solo nei boschi ma proprio anche nei centri urbani. Nelle ultime settimane sono state numerose le segnalazioni dei cittadini che lo hanno avvistato a Chiampo Nogarole e a San Pietro Mussolino. La presenza di predatori selvatici inquieta le comunità alla luce anche di quanto sta succedendo in Trentino con la vicenda dell'orsa assassina. Bisogna però iniziare ad affrontare il problema seriamente quindi non si tratta di dire io sto con l'osso o sto contro l'osso io sto con il lupo o io sto contro il lupo. Qui si tratta di capire visto e considerato che questi animali sono stati reintrodotti dall'uomo bisogna capire se viene effettuata una corretta gestione. Certamente ci preoccupa questo appunto deve invitare soprattutto a coloro che hanno piccoli allevamenti magari appunto casalinghi di bestiame a stare molto attenti appunto alla presenza di questi animali. Ci siamo allarmati un po' abbiamo confrontato con la guardia provinciale la polizia provinciale al quale ci ha detto di stare abbastanza tranquilli. La presenza anomala potrebbe essere un fattore transitorio legato al periodo dell'accoppiamento che induce gli esemplari più giovani ad esplorare nuovi territori. Il fenomeno però non va sottovalutato. Chiaramente è una presenza anomala come altezza nel senso che solitamente viaggiavano ad un'altezza molto più alta questo appunto ci preoccupa e insieme con i colleghi sindaci e la velata del Chiampo stiamo discutendo per capire quali iniziative possiamo intraprendere. Una revisione della gestione di questa fauna è divenuta oramai indispensabile e noi questo ci aspettiamo. Nel frattempo chiediamo ai cittadini di non per così dire giocare con gli animali questi animali sono predatori e sono selvatici. Speriamo in bene che al più presto questo lupo si allontani dalla nostra comunità perché sentirlo passeggiare in centro abitato non è proprio così simpatico e non ci fa stare così tranquilli. Non solo danni all'uomo in questo caso ma anche all'ambiente e quindi già che parliamo di difesa dell'ambiente parliamo di un altro flagello dell'ambiente e delle piante in questo caso la processionaria è un insetto sempre più presente tra gli alberi che può essere tra l'altro nocivo anche per l'uomo. Vediamo. L'ordinanza impone l'obbligo ovviamente di controllare quelli che sono i pini che sostanzialmente sono le piante che sono soggette a questo tipo di attacco da parte di questi insetti e ovviamente la cura e la rimozione di questi nidi che contengono appunto le processionarie. La processionaria si è diffusa in questi anni per il clima eccessivamente caldo e causa danni all'ambiente come il defogliamento degli alberi o nel caso di un animale il rigonfiamento della lingua che può portare al soffocamento. Non solo il pubblico anche il privato ha l'obbligo di tenere curate le proprie piante e soprattutto di combatterle a processionare. Un insetto dannoso anche l'uomo deve prestare massima attenzione. Sono degli animaletti che sono molto urticanti che possono creare reazioni allergiche quindi importante assolutamente combattere e rimuovere questo problema. C'è stata una prova di evacuazione che è stata superata ieri in via Piave a Belluno vigili del fuoco e SUEM hanno testato il piano di emergenza del centro servizi volontariato. L'ipotesi di lavoro un probabile incendio con la necessità di recuperare anche persone disabili ospitate nell'alloggio protetto al secondo piano della struttura ed è un periodo in cui davvero ci sono tanti casi di abitazioni e di aziende che vanno a fuoco. Vediamo il servizio di Tiziana Bolognani. 10 e 30 di questa mattina il lungo suono della sirena d'emergenza del centro servizi di volontariato fa convergere in via del Piave a Belluno mezzi e personale dei vigili del fuoco e del SUEM strada interdetta al traffico e evacuazione di chi si trovava all'interno della struttura. E' parsa un'emergenza reale e così si è lavorato nel tempo di 45 minuti esatti per portare a termine simulazione e verifica del piano di sicurezza del CSV compreso un test importante di sgombero dell'appartamento protetto che si trova al secondo piano della struttura. La cosa è andata molto bene gli occupanti del CSV sia gli ospiti che i personali si sono portati a organizzamento e quindi alla fine è stata una giornata interessante per tutti gli attori. Vigili del fuoco e SUEM hanno lavorato all'unisono ottimo coordinamento per validare e si servirà per implementare il piano d'emergenza del centro servizi volontariato. È andata bene fin dall'inizio la sala operativa di Vigili del fuoco ha correttamente allertato la centrale operativa del suo 118 in un evento come ipotizzato c'era la regione di certezza non ci fossero feriti tutti sembravano evacuati tranne appunto le tre persone sulla terrazza in una situazione del genere comunque il suo invia un'ambulanza a presidio che è stata poi utilizzata appunto per dare una prima assistenza un test importante come quelli programmati nelle strutture ritenute sensibili quali sono le case di riposo mentre il settore di elezione della prevenzione resta il mondo della scuola toccare mettere le mani e addestrarsi è la cosa migliore poi per diciamo farlo però quindi come si dice rendere un po' più automatici i comportamenti nel caso mai ci fosse una condizione andiamo in pubblicità due minuti poi state con noi perché ancora tanti servizi tanti collegamenti con i nostri inviati nelle province del Veneto a tra poco grazie ancora un'occhiata alle pagine dei giornali online vedete Nordio il ministro della giustizia Carlo Nordio avvia un'azione disciplinare sui giudici che misero il russo US ai domiciliari negligenza l'associazione nazionale magistrati protesta dice non può contestare le valutazioni su questo ci sarà un'altra bufera politica il governo cambia il reddito e per favorire il lavoro calpesta gli occupabili ora chi ha figli piccoli dovrà accettare un posto ovunque in Italia anche a tempo e questo è ovviamente un titolo commentoso del fatto quotidiano adesso andiamo nell'alto vicentino perché c'è un incontro tra la provincia tra molti comuni per la viabilità trovare un modo un sistema un programma per renderla più fluida sentiamo in diretta Luisa Bertini Sì buongiorno a voi buongiorno i nostri telespettatori siamo in compagnia del sindaco di Schio Walter Orsi perché oggi è stato presentato in questo tavolo sovracomunale un progetto di fattibilità che riguarda la viabilità dell'alto vicentino di cosa si tratta? Praticamente saranno assegnati a breve i due incarichi di progettazione per i due lotti il primo e il quarto della variante SP46 quindi due tappi di bottiglia che oggi caratterizzano questa grande artere che collega l'alto vicentino con la città Copoluogo nell'ambito di queste assegnazioni di incarico con le riduzioni di gare che ne deriveranno in accordo con i sindaci del territorio si è deciso di dar vita a uno studio su area vasta che dia la possibilità di capire quali saranno le evoluzioni della viabilità del nostro territorio anche in funzione dell'apertura della pedemontana ma anche in funzione di quello che può essere l'arrivo del potenziamento della linea ferroviaria a Schio-Vicenza quindi la dotazione di dati certi che ci daranno la possibilità di determinare dei criteri di intervento e di miglioria di tutta la viabilità dell'alto vicentino in funzione al collegamento per la città Copoluogo quali sono le tempistiche e quali i costi? nel giro di pochi giorni si dovrebbe arrivare all'assegnazione quindi alla chiusura della gara quindi l'assegnazione dei primi due progetti nel giro di qualche mese l'assegnazione dello studio complessivamente i due progetti complessivi dello studio siamo intorno ai 700 mila euro ecco io ringrazio il sindaco Walter Orci restituisco a voi linea studio grazie molte Luisa Bertini la storia di Bruna malatta oncologica che non può prenotare le terapie a Trento perché l'Ul 7 piedamontana non le fissa una data per una risonanza sentiamo io vorrei solo una data perché io devo telefonare a Trento una data una certezza uno straccio di carta che le permetta di proseguire nelle sue cure solo questo chiede la signora Bruna di Rosà all'Ul 7 vi raccontiamo la sua storia di malata oncologica che passa per una delicata operazione al cervello eseguita nel giugno del 2022 a Treviso dopo che l'operazione Bruna che ha 76 anni si deve sottoporre a una cura specifica che può essere eseguita solo a Trento ora deve tornare nel capoluogo della provincia autonoma per un controllo ma per poterlo fare deve eseguire una risonanza magnetica e avere l'esito di questo accertamento e qui iniziano i problemi già perché per le sue delicate condizioni di salute può fare la risonanza solamente a Bassano e allora si è rivolta all'Ul 7 per fissare una data attenzione perché questo è il passaggio fondamentale la ricetta della risonanza è stata emessa infatti da pochi giorni ma senza una data non si può fissare il controllo a Trento e Bruna non ce la fa davvero più a sopportare il dolore io vorrei solo una data perché io devo telefonare a Trento a dare questa data che loro non mettono in nota per andare a fare la visita perché ho tanti dolori tanti ormai non li sopporto più il marito si è recato in ospedale per ottenere una data ma la prenotazione non viene fissata perché resta nelle famose liste di galleggiamento ha detto rimettiamo in attesa e poi vediamo cosa si può fare ma devo andare a sollecitare fra poco perché se no mi danno i giorni almeno mi dasse una data che dopo devo programmare anche per andare a Trento solo questo chiedono queste persone non ce la fanno più e si sentono sole a combattere questa battaglia contro la malattia contro il dolore contro una burocrazia un sistema che non sanno distinguere i bisogni delle persone mio marito ormai ha 80 anni siamo con noi due i miei figli ne vanno a lavorare non abbiamo aiuto da nessuno nessuno finora ma la loro voce prende corpo e merita una risposta e invece una brutta storia di molestie e di violenze una donna che aveva consegnato la figlia dodicenne al nuovo compagno una bambina che ha subito molti abusi la madre trevigiana il padre residente nel Padovano entrambi i quarantenni sono finiti sul banco degli accusati con l'accusa di violenza sessuale su un minore è stata rinviata l'udienza preliminare sulla violenza sessuale e danni di una ragazzina che al tempo dei fatti aveva 12 anni sul banco degli accusati sono finiti la madre della piccola ed il nuovo compagno la donna si era separata dal marito ed aveva conosciuto l'uomo che immediatamente aveva dimostrato delle attenzioni verso la figlia attenzioni che si erano presto trasformate in veri e propri atti sessuali ed era stata proprio la madre a spingere la figlia nelle braccia del quarantenne i fatti risalgono all'estate del 2019 la piccola si era confidata con la compagna del padre ed era scattata la denuncia e l'arresto della coppia si deciderà alla prossima udienza rinviata di qualche mese se la madre e l'uomo accederanno all'abbreviato una storia terribile che ha segnato per sempre la vita di una ragazzina il servizio di Daniele Assizia è un ragazzo di 25 anni è morto improvvisamente dopo un malore si sospetta che possa essere stata causata questa morte da una overdose vediamo il suo cuore non ha retto e dopo 4 giorni di agonia ha smesso di battere Giulio Barbato 25 anni di figo d'Arzara è morto in ospedale 4 giorni dopo essere stato ricoverato per un malore improvviso mentre era in casa con i genitori sono stati i propri familiari venerdì mattina a chiamare i soccorsi dopo aver trovato Giulio privo di conoscenza il ragazzo visto le condizioni critiche era stato immediatamente ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Padova dove ieri è deceduto il sospetto è che a provocare il malore improvviso sia stata l'assunzione di stupefacenti sono stati gli stessi familiari a dirlo ai sanitari del 118 sembra che i carabinieri intervenuti a Vigo d'Arzare abbiano anche trovato della droga nascosta nella stanza del 25enne la procura è stata informata del decesso e potrebbe aprire un'indagine e disporre l'autopsia e aveva 10 dosi di droga con sé pronte per essere vendute un 17enne denunciato dagli agenti della federazione del campo san pierese durante un controllo a San Giorgio delle Pertiche confezionate e nascoste in un borsello erano 10 le dosi di hashish sequestrate durante un controllo dagli agenti della polizia locale della federazione del campo san pierese a un 17enne di San Giorgio delle Pertiche trovato a girare in bicicletta nei giardini di Piazzale Bonetto nella frazione di Arsego a segnalare la presenza sospetta erano stati alcuni residenti da qui i controlli eseguiti a ridosso di una manifestazione che richiamerà moltissimi giovani il 17enne è stato denunciato è il secondo caso di minorenne denunciato per spaccio in meno di una settimana nel campo san pierese venerdì scorso era toccato un altro 17enne a campo d'Arsego e sta facendo molto discutere la deposizione shock della patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia che ha parlato di un sacerdote che era stato sospeso perché trovato in compagnia di ragazzi mentre si stava denudando la segnalazione arrivò tra giugno e luglio 2019 il parroco dei Carmini teneva incontri con i 17enni in cui tutti restavano nudi in canonica lui compreso sono alcune delle testimonianze shock del patriarca di Venezia durante il processo sul cosiddetto Corvo che a gennaio 2019 aveva iniziato a tappezzare la città di Volantini che denunciavano atti di pedofilia e altri comportamenti sconvenienti commessi da preti veneziani e attaccava il patriarca nel primo di quei manifesti firmati Fra Tino era citato anche il nome di quel parroco insediatosi nel 2017 quando sei mesi dopo arrivò la dettagliata segnalazione il parroco dei Carmini ammise e il successivo processo canonico si concluse con la sua sospensione per cinque anni ha deciso di sottoporsi a una terapia psicologica e dopo aver scontato la pena potrà rientrare in servizio senza però svolgere ruoli che comportino il contatto con i ragazzi dunque neppure il parroco le accuse di quei Volantini ha detto ancora il patriarca mi hanno provocato un grande dolore così come il comportamento sconcertante di Don D'Antiga che non voleva essere spostato nemmeno di cento metri dalla sua parrocchia sulla questione è intervenuto anche il sindaco Brugnaro io faccio fatica poi commentare su cose da già mi sembra c'è la giustizia c'è la magistratura io sono un po' un garantista ci figuri ma mi sembra che lì la parte offesa sia la chiesa cattolica ho tutta la mia solidarietà ovviamente al mio padre spirituale perché di questo stiamo parlando cioè il patriarca per me è il mio padre spirituale Italo Morao e Alberto Pivetta in regia questa mattina ricordo sempre il capo redattore centrale delle nostre retti Nicola Zanetti vediamo vediamo un servizio a Trieste con Telequattro la nostra emittente triestina parliamo spesso di aggressioni ai medici e agli infermieri qui in Veneto ma evidentemente ce ne sono anche in Friuli Venezia Giulia vediamo a Trieste domenica l'aggressione a tre infermieri al maggiore ieri pomeriggio un nuovo episodio questa volta a Cattinara gli operatori di polizia del posto fisso dell'ospedale sono intervenuti nel reparto di medicina clinica in quanto un 27enne ha dato in escandescenze distruggendo l'intera camera del reparto e prendendosela con il personale presente ovvero medici e infermieri solo un caso che il giovane non abbia ferito nessuno ma i danni materiali al decimo piano della torre medica sarebbero ingenti l'uomo è poi scappato dal reparto ma è stato ritrovato nel triage dove ben quattro agenti sono intervenuti per sedarlo l'uomo è stato identificato e denunciato è stato appurato che era seguito dal centro di salute mentale i sanitari sporgeranno querela abbiamo sentito sull'episodio e sulla recrudescenza del fenomeno Flavio Paoletti già presidente del collegio infermieri le violenze riguardano il 70% delle donne e solo il 30% degli uomini quindi un problema anche di violenza di genere diffuso anche in ambiente sanitario e sociosanitario due possono essere linee di intervento da una parte ridurre lo stress degli operatori ma anche ridurre lo stress dei cittadini che aspettano lunghi tempi di attesa per accedere ai servizi e quindi aumentare diciamo migliorare le performance a livello territoriale medici e medicina generale servizi intermedi ambulatori distrettuali e così via e dall'altra garantire appunto la presenza di questi presidi delle forze dell'ordine oppure a chiamato urgente proprio per poter intervenire immediatamente questo significa che ci deve essere una grossa collaborazione tra il ministero della salute e il ministero degli interni parliamo di reati informatici all'interno delle imprese togliamo questo titolo la cyber guerra e le imprese in aumento i reati informatici ai danni delle piccole e medie aziende se ne è parlato nella sede di confartigianato Treviso a Lappiani vediamo i reati informatici sono cresciuti del 21,8% nella marca nell'ultimo anno e buona parte dei cyber attacchi hanno come obiettivo le piccole e medie imprese in epoca dunque di cyber guerra il mondo artigiano è costretto a difendersi qualsiasi azienda può essere soggetta ad un attacco per questo è molto importante sia il tema della formazione presso gli utenti perché ormai tutti siamo connessi tutti utilizziamo dispositivi digitali e anche poi strutturarsi accertarsi tutta la propria struttura sia idonea quindi sia rispetto a certi requisiti di sicurezza e dotarsi anche di sistemi poi di contrattacco in caso di attacco la sicurezza informatica è sempre più un fattore cruciale sottolinea il presidente di confartigianato marca trevigiana Oscar Bernardi anche perché le insidie possono presentarsi sotto varie forme ci sono attacchi che sono appunto cosiddetti DOS quindi sono per bloccare per esempio l'operatività quindi in qualche male ti saturo la tua possibilità di collegamento non riesci più a collegarti sono attacchi che hanno invece brute force dove vado a cercare di appropriarmi delle password ci sono varie tipologie che sfruttano o la debolezza umana nel caso in cui magari uno appunto si fila e ha presse e non sa bene cosa guardare dall'altra parte invece attacchi che possono anche per esempio bypassare le infrastrutture reti wifi ormai si trovano dei device per 200 dollari in internet dove basta mia vicino con la macchina di infrastruttura riesco a bloccare la rete wifi e quindi entrare ma anche nel server nella marca sono 200 le aziende del settore tecnologico legato alle telecomunicazioni che Confartigianato schiera a supporto delle piccole medie imprese in grado di valutare il livello di vulnerabilità degli apparati aziendali e prendere le necessarie contromisure viene fatta la formazione e vengono poste le azioni cosiddette di rimedio e di mitigazione quindi vengono poste delle configurazioni diverse per ridurre il rischio di essere attaccati oppure delle soluzioni più radicali di correzione dell'infrastruttura in modo da diciamo bannare completamente il rischio come si dice in generale boom di richieste del bonus trasporti riguardano in gran parte gli studenti che hanno fatto domanda in tante città del Veneto vediamo come è andata a Treviso molti però dei ragazzi che abbiamo intervistato ancora non hanno le idee ben chiare vediamo a Treviso i numeri del bonus trasporti sono alti da queste ore i passeggeri con un ISEE inferiore ai 20.000 euro possono chiederlo la MOM azienda di mobilità della marca fa ogni anno 32.000 abbonamenti il 75% dei quali ha studenti e la maggioranza di loro spende già meno di 60 euro al mese significa che il bonus di 60 euro mensili darebbe un grosso aiuto e dato che l'azienda aveva già aderito al bonus 2022 una base organizzativa c'è già stiamo cercando di risolvere i problemi soprattutto gli ultimi protocolli per quanto riguarda il bonus trasporti da remoto però credo che dopo il 20 noi siamo attrezzati il bonus può essere chiesto al ministero sia da remoto via smartphone o computer o in biglietteria si può fare sia da remoto che in biglietteria ricordo che nell'anno 2022 oltre l'80% di 20 diritto hanno fatto da remoto e quindi la nostra speranza è quella di non intasare le biglietterie ma che la gente usi questo sistema che è molto più pratico i viaggiatori che abbiamo sentito però danno l'impressione di non conoscere ancora bene il bonus quindi magari non se la sentono di richiederlo sa che da oggi si può chiedere il bonus trasporti si sapevo che c'era questo bonus trasporti e che si poteva richiedere però non penso di farlo credo sì comunque credo sì lei? sì sì ce l'ho anch'io chiederà il bonus? non lo so riprende chiederà lei? non ho la minima idea si informerà quanto spende al mese? ho preso quell'annuale prima di iniziare a lavorare quando mi è servito l'ho chiesto il governo ha messo sul piatto 100 milioni si va a esaurimento e non si sa se verrà aumentato quindi i soldi potrebbero anche finire già dopo il primo mese penso di no perché abbiamo visto anche nel precedente 2022 credo che qualche mese durerà ovviamente c'è l'impegno anche del governo di rifinanziarlo perché questo è sicuramente un incentivo per l'uso del mezzo pubblico molto importante Federico Fusetti i colli del Prosecco patrimonio dell'UNESCO sono meta di tantissimi turisti ma c'è anche qui un boom di richieste per ristrutturazione di immobili da destinare a strutture ricettive Valdobbiadene è sempre più a vocazione turistica ovviamente vediamo noi abbiamo avuto a partire dall'autunno scorso molte richieste di pratiche edilizie di ristrutturazione per la ricettività siamo passati dalla fine del 2014 in cui avevamo poco più di 300 posti letto oggi ne abbiamo 850 circa la previsione per quest'estate è di arrivare a mille posti letto Valdobbiadene aumenta la propria proposta ricettiva per rispondere alla crescente presenza di turisti provenienti soprattutto da Germania Austria Gran Bretagna e Stati Uniti anche in questi primi weekend di primavera il centro nel cuore delle colline patrimonio UNESCO ha registrato il tutto esaurito ma l'intento è quello di aumentare ulteriormente l'offerta di posti letto e con questi anche i servizi a partire dal trasporto pubblico che vede il comune impegnato insieme all'associazione UNESCO per migliorare la mobilità tra i comuni dell'area l'amministrazione di Valdobbiadene è poi intenzionata a facilitare anche gli spostamenti all'interno del proprio territorio Stiamo ragionando assieme ai privati per dei trasporti che servono più che altro per evitare quello che abbiamo visto anche in questo fine settimana delle difficoltà di parcheggi soprattutto sulle zone più rinomate più belle delle nostre colline quindi dei trasporti dai parcheggi scambiatori del cimitero della zona industriale verso questi luoghi quindi delle bus navette Per Valdobbiadene si può parlare di prove generali in vista delle Olimpiadi invernali del 2026 e con il comune trevigiano che si trova proprio a metà strada tra Cortina e Venezia Il turista sportivo che verrà per le Olimpiadi dovrà essere attratto all'area del Valdobbiadenese quindi con delle proposte con dei servizi di qualità e con delle proposte integrative rispetto a quelle che verrà a cercare a Cortina e sulle nostre Dolomiti Signore di Valdobbiadene Fregonese che sarà a focus a una delle prossime sere ovviamente la regina del turismo è Venezia quando nei weekend è assaltata assaltata da turisti che arrivano da tutto il mondo c'è un problema però adesso che riguarda i plateatici erano stati aumentati in seguito al Covid perché ovviamente la gente non poteva mangiare all'interno di ristoranti e bar quindi era aumentato lo spazio all'esterno adesso purtroppo pare che i plateatici tornino al numero che riguardava la fase pre-pandemia Padova e i suoi plateatici de orde le piazze che da un lato attirano clienti e turisti e dall'altra nelle ore serali fanno infuriare i residenti e per anni sono stati oggetto di viatriba con la sopraintendenza che tutela dei beni culturali durante la pandemia i plateatici erano stati allargati per consentire di mangiare all'aperto per far lavorare bar e ristoranti ora nonostante lo Stato abbia concesso una proroga delle concessioni fino a fine anno nella città si sta tornando alla situazione pre-pandemia e così sarà anche per le piazze come spiega il nuovo sopraintendente ai beni culturali e archeologici Vincenzo Tinet il Covid è strafinito per gli oscialcisti e non sono più plausibili motivazioni così sanitarie di estrema diffusione di de'ora indiscriminata adesso è importante riportare questa necessità strettamente logica legata al turismo la società civile tutti vogliamo mangiare fuori e ci siamo abituati a farlo il problema è farlo con rispetto del contesto urbano dei cittadini che vivono al centro per non finire come altre città anche venete completamente in pasto ai turisti Padova in quest'ultimo anno complice anche il riconoscimento di patrimonio unesco di Urb Spicta è diventata molto attrattiva per i turisti che scelgono la città del santo come meta turistica per brevi soggiorni l'offerta dei locali dunque punta molto sulla fruizione dei plateatici Padova è una città viva è una città frequentata da cittadini da studenti è una città ancora in cui il centro è il cuore vivo pulsante quindi i deor devono essere regolamentati lo stiamo facendo perché il comune ha deciso meritoriamente di tornare all'accordo 2020 con la sovrintendenza quindi ci sono piovute un sacco di richieste e autorizzazioni sulle piazze che avranno finalmente un nuovo ordine e ne abbiamo parlato anche ieri in una diretta con Sharon Di Carlo di quanto stanno facendo dei ragazzi disabili per ripulire delle aree verdi qui siamo eravamo a San Martino vediamo la sintesi di quella che è stata una giornata proprio ecologica vediamo arrivano ballando e cantando ma soprattutto con i sacchi colmi di rifiuti termina l'oase di Campretto la passeggiata ecologica che ha visto 26 persone con disabilità fisica e psichica oltre a tanti volontari percorrere con pinza e sacchi le strade bianche di San Martino di Lupari e oggi Ecco Corsabili ha proprio dato l'esempio di poter fare del bene con poco ma non solo i ragazzi con disabilità che sono stati i protagonisti ma i volontari tutte le persone che hanno collaborato si vede proprio negli occhi la felicità e nei sorrisi e questo è anche diciamo la mia benzina che alimenta il fuoco che c'è in me Inclusione sociale e ambiente Corsabili ed Etra un progetto possibile grazie a un lavoro di sinergia Innanzitutto l'educazione ambientale è sempre importante soprattutto per una società come Etra che ha un'attenzione al territorio che sta nelle sue corde da sempre perché si occupa appunto di servizio idrico integrato e di raccolta dei rifiuti ma anche e soprattutto in questo caso per l'inclusione sociale che grazie a Mattia ci permette comunque di coinvolgere anche ragazzi che spesso se no sarebbero rimasti chiusi fra quattro mura come dice sempre lui giubini e catarin frangenti pinze per la raccolta di rifiuti guanti e sacchi un progetto che ha coinvolto l'intera comunità come è andata? direi in modo strepitoso loro ci hanno dato tanto tanto a noi ci hanno dimostrato veramente un esempio di di quello che è oltre pulire anche stare insieme un'iniziativa green e inclusiva che potrebbe avere presto un nuovo seguito mi auguro che verranno ripetute e comunque l'amministrazione è sempre sensibile a questa attenzione per il territorio e comunque per le attività delle associazioni complimenti a questi ragazzi per la passeggiata green andiamo in pubblicità e poi torniamo con Focus TG molti nasi all'insù questa mattina di strana perché c'erano le frecce tricolori vediamo delle immagini nel centenario dell'aeronautica militare 51esimo stormo vari caccia militari si sono esibiti con avvitamenti passaggi erano evidentemente delle esercitazioni non era una cerimonia ufficiale un volo istituzionale ma di fatto le frecce tricolori solcavano il cielo e quindi molti si sono fermati tanti automobilisti si sono fermati vicino a di strana proprio per vedere questo questo spettacolo chiudiamo questa edizione del Focus TG con un parco che è stato intitolato ad un grandissimo poeta veneto è stato definito innovativo visionario ma era veramente un grande della letteratura Andrea Zanzotto la poesia normalmente ci fa riflettere ci riconcilia con noi stessi è un luogo dove poter pensare dove poter anche trarre dalla natura quella tranquillità rassicurante che spesso la natura ci dà per questo il comune ha voluto intitolare il parco adiacente a Villa Querini a Mestra il poeta veneto Andrea Zanzotto un segnale forte della sua presenza anche per dire alle giovani generazioni ci sono persone che hanno lottato una vita per raccontare quello che difficilmente si può dire se non attraverso l'anima e il cuore di ognuno sono state queste le parole del sindaco Brugnaro che ha partecipato alla cerimonia insieme al figlio di Zanzotto e all'amico Elio Armano era tutto il contrario di come ci si immagina un poeta cioè un poeta di solito viene immaginato come uno che pensa in astratto alle stelle o cose di questo genere in realtà anche se la sua profondità di pensiero la sua cultura letteraria era enorme era molto legato alla concretezza del vivere quotidiano e anche delle vicende del nostro territorio io spero che questo sia un luogo dove chi entra possa avere la natura e gli alberi che sono veramente belli e meravigliosi ottimo il lavoro che è stato fatto di così introduzione il rinnovo di questo elemento naturale nella città ma diventa anche un mondo un po' a se stante dove chi cerca vede anche al di là vede di fuori vede dell'altro Zanzotto è tra i più grandi poeti italiani della seconda metà del novecento innovativo ormai ma parve il senso dell'estate serena è forse l'ombra tua tra quelle del paese dei ciliegi piovosi alla sorgente s'accordano i boschi foglia con foglia allora chiudiamo con una notizia che riguarda un incidente che c'è stato a Cittadella sulla statale 53 coinvolti un camion e tre auto ci sono tre feriti sta andando sul posto Vanessa Banzatto avremo particolari ovviamente tutti i dettagli questa sera nel corso della nostra edizione del telegiornale di Rete Veneta grazie a tutti per averci seguito ci vediamo stasera con focus alle 21 e 15 buona giornata grazie a tutti